Galleria Voci, i sogni diventano realtà. La Galleria Voci la trovi su Corso Progresso 41, Catanzaro Lido. Ti aspettiamo! Seduta del Consiglio Comunale è movimentata qui a Palazzo De Nobili. La questione è sul rendiconto. È apparso appunto in completa dove la minoranza sta chiedendo di discuterla alla prima convocazione. Proprio a quelle mie spalle l'opposizione si è riunita per discutere su questo. Più tardi avremo più aggiornamenti. Si sono registrati dei battibecchi tra il consigliere Passafaro, il consigliere Tallini e alcuni membri dell'opposizione e della minoranza. Più tardi avremo aggiornamenti.